Dalle truffe del carburante agli alimenti trasportati senza regole, passando ovviamente per la sicurezza stradale, è stato un vero e proprio autunno caldo per la polizia, locale di Arezzo impegnata su più fronti. I complimenti per l'efficienza del reparto e per quello che fa in una città che è bene ricordarlo, non è una città come tante altre, è una città che per scelta dell'amministrazione si è aperta molto alla presenza turistica, quindi la popolazione, specialmente nei fini di settimana, nei periodi di vacanza, lo vediamo in questi giorni con la città del Natale, l'abbiamo visto poche settimane fa con l'Assemblea Nazionale Anci, con la presenza di più di mille sindaci in città, in realtà ha portato tanta presenza in più che è stata correttamente gestita su strada dai nostri agenti di polizia locale e lo hanno fatto con una dedizione, una presenza assolutamente incomiabile. Quasi 200 i servizi totali che hanno visto impegnati gli agenti negli ultimi tre mesi, con 113 violazioni al codice della strada accertate. Ammontano invece a 75, dal 2 novembre al 4 dicembre, le violazioni contestate agli automobilisti a seguito di controlli alla velocità effettuati grazie a telelaser e per guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di droghe. Le violazioni più frequenti purtroppo sono sempre rimaste costanti, sono mancato l'uso dei cinture di sicurezza, la velocità e l'uso improprio dei cellulari. Adesso la polizia locale è anche pronta a dire stop alla sosta selvaggia fuori dalle scuole aretine. Io ho fatto un caso in particolare che è la Rossellino. Non si può più tollerare una situazione di questo tipo. L'ho detto in maniera tale che, grazie al vostro aiuto, i cittadini sappiano che saranno frequenti i controlli in quella sede e in altre sedi. Assillare il rapporto di fine anno, infine anche il neocostituito nucleo autotrasporto della polizia locale che nell'ultimo anno si è occupato di sicurezza, ambiente e alimenti. Abbiamo scoperto questi che sono gli emulatori Adiblu. Questi emulatori vengono messi appunto dai camionisti perché permettono a loro di continuare il viaggio senza mettere l'additiva Adiblu. Quindi c'è sia una truffa a livello dello Stato, ma d'altra parte anche una truffa nei confronti dei cittadini. Sono emerse diverse irregolarità nel trasporto di alimenti. In un ultimo sequestro di 250 kg di telline, purtroppo conservate in secchi di idropittura, quindi di vernice per casa. Oltre a quello, purtroppo ci stiamo rendendo conto che sempre più spesso alimenti vengono trasportati in maniera non corretta. Grazie.